Avete già scelto il colore per il vostro matrimonio? Nel 2019 il trend è nel colore, la scelta di toni che vanno dal corallo al verde, i colori sono tutti bellissimi. L'importante è dosarli bene, saperli utilizzare, saperli abbinare. Possiamo utilizzare tonalità diverse di colore abbinate tra di loro e soprattutto dobbiamo studiare anche le tipologie di fiori che abbinate tra di loro possano aiutarci a dare una sensazione di naturalezza perché la composizione risulti in movimento, soprattutto quando poi il centro tavola è disposto su un tavolo imperiale. Lo studio, l'attenzione a questi piccoli dettagli possono aiutarci e fare la differenza il giorno del matrimonio.